Da questo evento sembra che l'aria che si respira sia molto frizzante, ci sono idee nuove sul tavolo, ci piace molto il clima che si sta creando in questo evento e ci sono molti giovani. Questa è una cosa che a noi piace particolarmente, se guardiamo qualche anno fa ci sono molti capelli bianchi, quindi è una cosa che a noi piace molto, significa innovazione e ne abbiamo un disperato bisogno e quindi ragionare come out of the box, quindi ci sembra l'ambiente ideale per creare nuove iniziative e sviluppare nuove idee insieme.